No vabbè, io faccio un discorso anche qui in generale, stavo passando a Roma perché era nottato. Altre questioni? No, perché mi interessava sapere il rapporto vostro con i Black Block. È difficile la qualificazione di Black Block in questo momento. Ci sono aree che sono diverse da quella nostra e oggi siamo qui a parlare di quel giorno lì perché purtroppo c'è in posto parlare di quello perché abbiamo una persona e tante persone in Italia che sono sott'accusa per quella battaglia. Su Algo, volentieri, dopo 5 minuti siamo risposti a parlare. Se qualcun altro vuole intervenire, prego. Ma io vorrei solo dire una roba, che io dal punto di vista tecnico non ho visto proprio di me. Ma è tutto evidente che, quantomeno da quello che mi è stato riferito da Avvise, per le sue contestazioni, faccio presente che la misura dell'arresto o qualsiasi altra misura cautelare non è obbligatoria per i reati contestati. Nel senso che ci sono dei reati in cui l'arresto è obbligatorio, ci sono altri reati invece per cui l'arresto è facoltativo e come le altre misure interdittive della libertà, tra cui l'obbligo di dimora a cui è soggetto Alvise. Da quello che mi è stato riferito da Avvise, l'arresto era stato richiesto per tutti i 30 o 40 indagati. Mi sembra una scelta molto pesante, nel senso che di fronte a un reato di lesioni anche aggravate e resistenza del pubblico ufficiale, penso che sia quello, tra l'appunto il provvedimento non ho visto, la scelta che la procura di Torino fa è una scelta non di utilizzare i mezzi che la legge rende obbligatoria di fronte alle reati estremamente gravi, ma dei mezzi che sono facoltativi per, secondo me, appesantire una situazione. Cioè questo secondo me va detto e secondo me dal punto di vista politico io mi sento di dire che è una scelta sbagliata. Poi, appunto, Avvise come gli altri indagati è difeso dai suoi avvocati che sono assolutamente in grado di fare in maniera ottima il loro lavoro. Dal punto di vista politico mi pare un segnale grave. Vorrei segnalare che mentre i tempi dell'inchiesta sui fatti di Torino è di sei mesi gli indagati per i fatti di Genova a cui io ero presente nel 2001 si sono estiti tutti per prescrizione. Cioè, è del tutto evidente che le procure in qualche momento utilizzano tempi processuali molto diversi di fronte anche ai fatti che abbiamo visti nei video di Genova, di Napoli o di quant'altro in cui sono successi secondo me delle vere e proprie limitazioni della democrazia in questo paese. Dai racconti che mi sono stati fatti per quello che è avvenuto a Torino non ci sono andato perché ci doveva andare ma non ci sono andato anche lì ci sono stati dei momenti di limitazione di sospensione della democrazia. Questa è un po' la questione. Poi se se tu mi dici se a fronte di un'azione che si ritiene illecita ci possano essere anche degli atti di illegalità io ti dico che una un'azione di disobbedienza civile passa come se le insegna anche Gandhi per atti importanti di disobbedienza i limiti vanno condivisi con chi fa la la lotta in Val di Susa da quello che mi è stato raccontato perché io non c'ero le modalità di manifestazione sono state decise collettivamente e si sono attuate a Roma non è successo questo nella grande manifestazione che abbiamo fatto sui beni comuni in realtà ci sono state incorsioni di persone che si sono inserite con loro percorsi non dico che siano i fascisti rossi queste cose qua i black bloc eccetera ma del tutto è evidente che si sono inseriti in un percorso di una comunità che aveva scelto un altro percorso per fare delle cose diverse la seconda cosa che volevo dire è che appunto secondo me e questo lo dico come uno che frequenta anche qualche volta tra le aule di giustizia insomma fare delle perquisizioni alle 6 di mattina in una città come Belluno quando l'ordinanza era datata tre giorni prima ed è tutto evidente che è un segnale giudiziario estremamente forte perché a mio avviso la stessa perquisizione si poteva fare alle 8 di sera in contemporanea tra Polonia e Belluno senza distrappare delle persone cioè ci siamo trovati di fronte a un atto estremamente forte di cui la procura di Torino e le forze dell'ordine che hanno eseguito si prendono la loro responsabilità poi processualmente alviso come gli altri diputati risponderanno ai fatti che gli sono contestati devo rilevare che in centro mi pare che a lui sia contestata la come si dice la lesione a 130 persone insomma o è come Davide che riesce a centrarne uno al colpo o mi sembra una roba un po' un po' complicata insomma per cui appunto le contestazioni sono di iniziatutto mi sembrano anche contraddittorie però dal punto di vista legale saranno i suoi legali che fanno la loro riflessione dal punto di vista politico secondo me c'è da sottolineare una sproporzione tra i reati contestati e le misure di limitazione della libertà che sono state poste in esso Walter tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì mi pare che la ricostruzione degli episodi dei fatti nello specifico è stata abbondantemente fatta noi come Comitato a Pobini e Comune vogliamo soltanto in questa situazione sottolineare la grande partecipazione sempre costruttiva propositiva del Vise nelle nostre iniziative con grande coerenza e con grande continuità e attenzione ai beni comuni del nostro territorio sicuramente rispetto a questo aspetto penso che la strada migliore per rispondere sia quella della rinforzare la fratellanza e relazioni calde tra le persone che sono l'antidoto più importante rispetto a un tentativo insomma di creare divisioni frammentazioni e isolamenti si pone un problema politico più complessivo a partire anche da questi episodi che è quello del fatto che non si dà più rispetto all'autodeterminazione delle comunità territoriali alla difesa degli interessi complessivi delle comunità rispetto agli interessi invece speculativi che avvengono nel territorio allora di fronte a questa dissociazione è evidente che poi esplodono delle contraddizioni in tutta la rilevanza in tutta la portata noi ci troviamo a pochi mesi da un referendum popolare che con il voto sancito dal popolo italiano doveva determinare dei cambiamenti come si può dire che dovevano essere rispettosi della democrazia decisionale del popolo italiano e ci troviamo a breve a dover attivare una campagna di obbedienza civile o chiamiamola teoricamente disobbedienza civile in termini come si può dire di riferimento ma definiamo obbedienza civile perché il rispetto di un esito referendario della democrazia diretta come rispetto alla volontà e della determinazione delle comunità valsusine rispetto a quel problema specifico dovrebbe essere come si può dire il punto di riferimento delle istituzioni e di chi intorno alle istituzioni si muove evidentemente questo elemento di rispetto alla volontà popolare della democrazia diretta sta venendo meno ed è evidente che rispetto a questo allora deve subentrare una capacità di sempre più forte coesione cooperazione reciprocità e fratellanza tra le comunità territoriali e questa è la sfida che ci vedrà come protagonisti anche nel prossimo futuro ovviamente sapendo di avere Alvise al fianco nostro e noi al fianco suo io voglio ringraziare tutti anche per arrivare a chiudere anche per i tempi del giornalismo allora Lorenzo volevo chiedere una cosa per questi fatti del 3 luglio c'è qualche indagine o procedimento in corso a carico delle forze dell'ordine? ma non è risposta chiaramente no ma non è stata presa nemmeno denunce o cose da parte del comitato sono partite per esempio Fabiano sta provando adesso a denunciare chi l'ha torturato logicamente per le forze dell'ordine c'è un'omertà fortissima chi l'ha torturato era coperto da da un passamontagna molte volte o dai caschi e dai fazzoreti che avevano addosso queste cose qui si si muoveranno ma dubito dubitiamo purtroppo che si venga a capo dei nomi di chi ha commesso queste queste atrocità diciamo perché torturare una persona è una cosa che trovo fuori da ogni una caserma si poi in Italia nel 2011 quindi si si sta muovendo anche da questo punto di vista però i passi in avanti sono pochi è difficile trovare risposte soprattutto se magari da parte della magistratura c'è una volontà di muoversi non c'è una risposta da parte di quello che è la polizia e di IGOS si si l'ho chiesto ben sapendo abbiamo visto i fatti di Genova del 2001 ma infatti è stata fatta ma infatti hanno la dimensione che hanno noi vorremmo chiudere dicendo una cosa al di là della tensione poi e della rabbia che c'è oggi e in questi giorni qua vogliamo soprattutto sottolineare invece i fatti positivi e i segnali politici anche che devono arrivare da momenti come questi e da momenti come quelli sono stati svolati in tutta Italia perché ricordiamo che da Napoli a Trento passando per tutti i luoghi d'Italia la solidarietà ad Alvise nella persona di Alvise e poi a tutte le persone colpite da questo provvedimento è stata totale non stiamo qui a fare un elenco che sarebbe noioso e che non ha nessuna importanza andiamo a vederselo su internet se qualcuno ha curiosità di capire quanto è più di questo momento tornando poi alla nostra comunità territoriale mi sembra che la risposta sia questa siamo qui oggi non a piangere il morto e a fare una situazione di spiga ma anzi a dire da oggi usciamo di qui con una comunità territoriale ancora più rinsaldata sulla convinzione che le battaglie per i beni comuni e per la democrazia vanno condivise fino alla fine anche in momenti come questi abbiamo deciso di aprire questo spazio è uno spazio di democrazia reale in cui condividere questo momento con tutti gli altri che sono venuti qui oggi e che sono qui oggi io vorrei chiudere chiedendovi un atto di solidarietà anche visiva nei confronti di altri che comunque se la deve succare anche perché fino a un'ora fa gli avevano anche imposto una limitazione personale dalle 21 alle 6 di mattina totalmente al di fuori della loro possibilità da vivos di Belluno di cui veramente rendiamo sempre grazie al lavoro ottimo che stanno svolgendo voglio dire sì voglio dire che oggi ci siamo visti appena uscito dall'incontro che gli era stato imposto per nel frugiorno di oggi all'ufficio della Digo sul comune di Belluno e nel primo provvedimento perché l'ho letto con i miei occhi che è ancora in atto fino a prova contraria c'era un'imposizione della limitazione della libertà personale oltre che quella dell'obbligo di dimora perciò di rimanere all'interno del comune il divieto di lasciare casa sua dalle 21 alle 6 di mattina un provvedimento totalmente fuori dalle loro possibilità nel pomeriggio c'è stato una serie di telefonate con gli avvocati di Bologna e si è verificato per l'ennesima volta un uso strumentale di quella che è la giustizia non è la prima volta che la Digo di Belluno si è morda e va anche fuori provincia infatti io farei veramente i complimenti visto che adesso c'è stata una telefonata in cui sembrerebbe che questo dispositivo venga messo totalmente in discussione perché non è possibile farei un complimento sentito anche personale al dottor Foglatella e al dottor Fazzin per l'ottimo lavoro che stanno facendo perché se l'invito è il fatto che se vogliono fare politica lo facciano come noi mettendoci la faccia mettendoci le idee e anche spendendosi detto questo chiuderei con un applauso scusa prima correvo hai detto che è ancora in atto al momento cioè tu alle 9 devi essere a casa se non le sei di mattina dovrei essere il mio avvocato ha chiamato l'ufficio perché a lui in questa cosa non risultava adesso bisogna capire adesso sto aspettando la telefonata questo è un provvedimento messo alla digos di Belluno che non era nel provvedimento diciamo messo alla procura non era con la conoscenza di queste cose infatti è rimasto anche lui un po' si alibito adesso sto aspettando la telefonata in teoria dovrebbero toglierlo adesso vedremo a breve posso dire una parola così gli oletti possono andare a casa tranquilli si velocemente dal punto di vista storico la facciusa è 20 anni che sta autando dal punto di vista storico stiamo ripercorrendo circa 50 anni dopo gli stessi passi del comitato per la difesa valertana nel 57 i tempi sono diversi la scelta italiana è diversa allora l'80% della popolazione è analfabeta bastavano 3 carabinieri con un po' di casa pubblico tutti oggi nel tempo di pod ipad internet ci vogliono 4.000 poliziotti lacrimogeni e maroni di mezzo ma sono gli stessi passi era tutto scritto allora oggi basterebbe saper leggere e non era la prima volta su Torino a livello personale che a Bigos di Belluno traborda va oltre i suoi compiti di istituto e si spinge anche fuori provincia a fare delle legalità palmare per far stabilire la gente e io trovo che Alvise oggi con i due minuti di Stingo eccetera eccetera rappresenta quello che ha rappresentato l'epoca Lorenzo Rizzato uno studente di Padova che ha sottratto temporaneamente per due sagioni i lucidi delle prove dei vietti dimostrando che la Sade sapeva ci ha rimesso la carriera ci ha rimesso la laurea oggi dirige un teatro alternativo ma trovo moltissime assonanze cambiano i nomi cambiano i tempi cambiano i colori ma rifaccio sempre quelli da Balsunio sono vent'anni che stanno combattendo hanno ragione io sono artista alla Farra ricercatore oggi pregiudicato per l'informazione ovviamente ma poi più tardi già vediamo ma non è il mio caso che ha importanza io trovo tantissime assonanze e posso fare conferenze e mi guaio su quello che è successo a Bajon e quello che è successo adesso un'opera assurda che ha conto tutta la valle di Padova da vent'anni non da ieri è una roba scandalosa può succedere sull'Italia ma succede in Italia perché le leggi vigenti risalgono il codice fascista rimbellentato da un giovane giudista che si chiamava Giovanni Leone non a caso più volte presidente del consiglio non a caso al Vajon non a caso presidente della repubblica non a caso il presidente della repubblica ha dovuto fare valigia e andasse anche dall'Unione non era fatto ma questo serve per i giornalisti anche se possono andare poi magari tutt'altro detto questo chiederei l'Italia migliore è rappresentata oggi dalla macciugia e l'onore dell'Italia risinua sta sulle spalle di quella gente e sulle spalle di avviso che è anche io per cui ti verrà grâce ! applausi 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 di Grazie.